ora sono in cucina adesso vado verso la cucina questa è una parte del giardino ovviamente c'è il sole poi continua c'è il di dietro del giardino anche dall'altra parte purtroppo c'è il sole poi si esce fuori per andare al bagno e questo è il bagno ora poi abbiamo la una piccola casetta dove ci abbiamo le galline cioè le galline dove la notte mettiamo le galline dentro perché ci sono le volpi la notte poi ovviamente c'è ancora roba il ripostiglio ci sono molte talpe talpe il giardino è grandissimo raccoglitore d'acqua a me sta casa mi fa schifo questo è il di dietro della megavilla se vogliamo dire così quindi per il momento paghiamo 1000 1600 euro da affitto per il momento adesso chiudiamo vabbè lasciamo così per il momento poi poi per il momento non vi faccio non filmo sopra so perché sono cinque stanze queste sono le scale eccola questa è la camera del letto pian terreno ecco qua ecco qua quindi c'ho una mega televisione che è grande insomma pian piano ci stiamo stiamo mettendo dei mobili poi qua nel salone ci sarà la camera da pranzo da pranzo ovviamente insomma pian piano si vedrà cerco di postare cerco di postare questo video poi piano pian piano farò altri video per la casa a me questa casa ripeto mi fa schifo una vera schifezza ciao a tutti a presto a presto ciao 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 ciao